Lontano, lontano, al di là dei boschi e delle montagne, vive una persona che si ricorda sempre dei più piccoli. Non si tratta del tuo ordine? Ti do il benvenuto nella mia casa. Questo Natale sorprendi i tuoi cari con un video messaggio e con una vera lettera da Babbo Natale. Crea il tuo filmato con una fotografia e il nome. Luca. Francesca, vieni dall'Italia. Aggiungi qualche altro dettaglio e raccomandazione. Riccardo, studia bene a scuola. E parti per un viaggio magico, ideato appositamente per il tuo bambino. Ciao, ciao. Ho, ho, ho.